benvenuti a tutti in questo nuovo video vi parlerò della storia di kia motors kia nasce nel 1944 a seul in corea del sud e principalmente produce componenti per biciclette il suo primo veicolo è nel 1952 e si chiama sanciuli o e questo prodotto resterà il suo prodotto di punta per i nove anni successivi nel 61 viene presentata la sua prima motocicletta che prende il nome di c100 e tre mesi dopo crea il suo primo motocarlo a tre ruote il k360 bisogna andare più avanti nel tempo per vedere la sua prima vettura infatti nel 1970 fiat gli rilascia la licenza per assemblare il cento la 124 la 124 viene prodotta in 6.775 esemplari e viene venduta fino al 1973 è equipaggiata di un motore 1200 benzina di origini italiane con 65 cavalli calcolate che il 30 per cento della componente meccanica di questa vettura era stata riprogettata dagli ingegneri coreani per soddisfare le esigenze della propria nazione nel 73 viene realizzato il primo motore a benzina per le automobili e nel 74 kia si lancia finalmente nel mercato delle auto con la sua prima grande berlina la birsa in contemporanea gli viene concessa la licenza per costruire la pejor 604 e la fiat 132 per il mercato asiatico grazie a questo kia inizia a essere conosciuta anche all'esterno dei propri confini quindi della corea negli anni 80 inizia una svolta dell'azienda e viene costruito il suo primo veicolo commerciale che prende il nome di bongo e ha una tonnellata di portata questo veicolo ed è in partnership con la giapponese mazda è un veicolo destinato principalmente all'agricoltura nell 86 arriva ford e chiede di realizzare la festiva per poi importarla in casa quindi negli usa negli stabilimenti coreani di kia da lì inizia per chi ha un momento di grande espansione seguito da una profonda crisi quindi dalle stelle alle stalle come si suol dire che nel 97 culminerà nella bancarotta dichiarata da kia a guadagnarci da questa bancarotta è la hyundai che inizia a importare a comprare il brand a importare le vetture marchiate kia da noi e grazie a questa acquisizione nel 98 kia inizia a vendere le proprie vetture in italia e importa la scuma la safe fiat la pride e infine una di quelle più vendute di questo trio la rio che era una macchina che richiamava molto una monovolume aveva un prezzo davvero basso anche le plastiche diciamo che non erano granché però hanno venduto abbastanza un'altra vettura che è stata importata successivamente ha venduto bene è la sportage che era diversa da quella che vediamo adesso era un SUV spartano ma sulla falsa linea della lada niva per darvi un'idea un po più grande poi hanno importato un ammiraglio opirus che ha avuto veramente pochissimo successo perché abbastanza brutta come linea e la carens che era un monovolume che aveva anche sette posti che ha avuto un discreto successo l'unica cosa che la penalizzava alcuni motori che erano veramente assettati di benzina o gasolio e infine poi hanno importato la sorrento hanno importato la picanto poi pian piano col tempo hanno rifatto la rio adesso è diventata una macchina a tre volumi veramente elegante e sportiva hanno fatto la seed hanno rifatto la carens rifatto la sportage poi hanno messo la pro seed che è la seed col baule lungo come una familiare hanno fatto la stinger che è una vettura che io adoro che è sportivissima poi hanno fatto la venga che è la sorella gemella della x20 che è un monovolume di piccole dimensioni come classe b ha fatto la stonic che è un mini suv proprio mini mini ha fatto la soul che è una macchina che non riesco a capire che segmento sia che è un po squadrata l'incrocio tra un suv un furgoncino e una macchina di stile e poiché hanno fatto l'optima che in italia però pochissimo successo c'è anche l'optima station wagon e poiché altro e basta hanno fatto l'exeed stanno iniziando a fare le prime ibride e questa è tutta la storia del marchio kia spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like grazie a tutti